Buonasera a tutti, grazie di essere qui così numerosi, grazie a Armando di averci invitato, non è la prima volta che sono qui come sapete più volte e sta a me spiegarvi cosa abbiamo deciso di fare io e Hermes e quando ci siamo incontrati con Armando ha detto ma torneresti a Torino spiritualità? Ho detto perché no e poi ho visto il tema ho detto quest'anno il tema io sono appena stato al festival francescano dove era attraverso ferite quindi il tema della fragilità e allora abbiamo deciso di strutturarci in questo modo qui se voi siete d'accordo poi tanto comunque siete qua e cioè di sentire due voci quindi ci siamo sentiti nelle scorse settimane con l'amico a Hermes di cui ho grande stima ci tengo a dirlo subito e ho detto perché non facciamo una piccola lezio visto che la scrittura un po' il nostro pane e il nostro desiderio quindi abbiamo preso due figure che incarnano bene la fragilità e il ripartire faremo un quarto d'ora a testa Hermes partirà con la Maddalena quindi partiamo con le vette delle vette e poi io passerò con Pietro, siamo dei bei tipi insomma e poi faremo avete presente quando ci sono quelle trasmissioni, la doppia intervista quindi non daremo la parola a voi, abbiate pazienza, ma ci siamo scambiati delle domande perché a partire dalla propria esperienza spero possiamo intercettare anche le vostre domande però vogliamo proprio dedicare quest'ora ad approfondire questo tema in questo modo qui, prima la parola e poi la parola alle parole del nostro vissuto questa è un po' l'idea, spero vi piaccia e spero che possiamo uscire fuori tutti più contenti di come siamo entrati perché questo è l'obiettivo. Grazie a tutti e buon ascolto. Allora buonasera anche da parte mia, la iniziamo, grazie Paolo perché è per colpa tua che sono qua io non sono un biblista con la patente, sono un nomade del Vangelo e un bracconiero, un cacciatore di frodo della Bibbia entro dentro a cercare come uno va per funghi, io vado per rovetti ardenti dove scottarmi un po' alle passioni che la Bibbia trasmette però una delle cose, delle figure così belle, quella di Maria di Magdala e i suoi sette demoni, un legno storto che ha sperimentato la totalità del male ebbene Gesù ricava da lei la testimone schietta, a schiena dritta della Pasqua più di tutti gli altri. Se noi sappiamo come Gesù è morto è per lei la prima delle donne fedeli, nominata sempre in testa a tutti gli elenchi delle discepole che si staglia sopra quel gruppetto di donne coraggiose e fedeli che non sono arretrate di un solo millimetro dal piccolo cerchio di sangue della croce la donna in cui aveva trovato casa la totalità del male, sette diavoli diventa la donna che a Pasqua parla con gli angeli chiamata dal risorto, l'ex indominiata, a diventare angelo di un'annunciazione da lei capiamo che Gesù non è venuto a portare solo la salvezza la salvezza è tirarci fuori dal male, dalle sabbie mobili, dalle acque che minacciano ma ha portato la redenzione che è molto di più la redenzione vuol dire trasformare la tua debolezza in forza il tuo difetto in energia nuova, la maledizione in benedizione il tradimento in atto di fede come per Pietro la pietra scartata in pietra angolare tira fuori la farfalla dal bruco la farfalla che non sapevo dal bruco che temevo, credevo di essere allora seguiamo un po' questa figura nei pochi tratti in cui i Vangeli ne parlano Gesù l'aveva guarita da questa grave malattia del corpo o dello spirito e lei aveva risposto seguendolo per tre anni ascoltando parole di vita osservando i gesti di guarigione mettendo a disposizione i suoi beni come le altre donne quando un maestro viene catturato e inchiodato lei non è scappata è lì, l'unica che tutti e quattro i Vangeli ricordano ai piedi della croce il cristianesimo dove nasce? nasce lì negli occhi delle donne velati di lacrime nasce dalla contemplazione amorosa del volto del Dio crocifisso guardava il suo signore morire e nessun Dio a soccorrerlo poi quell'uomo che sapeva di cielo viene chiuso in un buco nella roccia e lei si ferma a osservare dove lo depongono forse pensa già a come prendersi cura di quel corpo dopo un povero frettoloso funerale e allora arriva l'alba della domenica in quell'ora tra il buio e la luce quando le cose escono dal sepolcro della notte e si riconsegnano alla vita Maddalena esce di casa, va al sepolcro nuovo nel giardino quando è ancora buio in cielo e non si vede bene ma va seguendo la bussola del cuore si cammina solo seguendo la bussola del cuore la mappa che traccia il cuore, la mappa della vita e Maria esce e non ha paura, da sola come la sposa del cantico lungo la notte cerco l'amato del mio cuore è sola, non ha niente fra le mani, non porta gli oli aromatici come le altre donne nei Vangeli Sinottici ha soltanto il suo amore che si ribella all'assenza di Gesù amare e dire non ha paura lei che è donna mentre hanno paura gli uomini scrive Meister Eckhart perché non ha paura perché lei gli apparteneva e il suo cuore era presso di lui dove era lui era anche il cuore di lei perciò non aveva paura la tomba è vuota fresca e risplendente nell'alba come un seme che si è aperto Maria vede poi corre, chiama gli altri, ritorna e gli altri se ne vanno e lei rimane lì ancora non si è contenta di ciò che vede lei piccola donna ha più desiderio, più bisogno più amore, più lacrime che non i grandi uomini Pietro e Giovanni ha più lacrime ad avversare l'eloquenza delle lacrime piangere e amare con gli occhi non si rassegna l'evidenza della morte non si lascia consolare neppure dagli angeli cerca solo il suo tesoro perduto lo ama anche da morto quell'uomo che le aveva aperto orizzonti infiniti perché il tempo dell'amore lo sappiamo tutti è più lungo del tempo della vita poi colei che cercava con tanta passione si accorge che era cercata Gesù la chiama una voce fra le lacrime Maria e lei si gira sussurrando balbettando rabbunì dice Giovanni no credo abbia detto dodì come nel cantico dei cantici l'un l'altro si chiamano dodì i due sei tu sei tu amore non lo vede con i suoi occhi velati dal pianto ma lo sente non vede perché vede vede perché ama nessuno poteva pronunciare il suo nome come quell'uomo molti ci chiamano per nome qualcuno con affetto pochi con amore uno solo con tutto il cuore e lei sentiva come noi possiamo sentire il nostro nome al sicuro su quelle labbra su quella bocca come in nessun'altra parte e poi il capovolgimento ulteriore vai dai miei fratelli non mi trattenere la donna sdemonizzata diventa missionaria Maddalena che aveva il cattivo odore del male porta adesso agli altri il buon profumo di Cristo il buon odore di vita per la vita come la samaritana dai cinque mariti dal cuore ferito e contorto donna che con tanti amori era rimasta nel deserto dell'amore che diventa la prima missionaria di Samaria abbandona la brocca e corre in città gridando a tutti venite c'è uno che dice tutto di te donne sviate che diventano inviate è la redenzione quale fiducia immotivata ha il Signore per ricalcolare il suo percorso perché il tempo del perdono di Dio è l'anticipo Dio perdona di un amore preveniente che previene anche il pentimento è incondizionato asimmetrico se mi pento Dio mi perdonerà no tu ti pentirai quando sentirai che Dio ti ha perdonato il figlio prodigo torna il padre l'ha già perdonato la pecora perduta non sta tornando all'ovile ma il pastore la trova la carica sulle spalle la moneta perduta è trovata per terra sotto la spazzatura di casa quante monete d'oro nella nostra esistenza anche sotto un velo di spazzatura e Dio le tira fuori da sotto come un pescatore fa con i pesci le porta al sole e all'aria le nostre monete d'oro solo lui poteva nei sette demoni di Maddalena intuire due angeli futuri dove l'uomo dice perduto Dio dice trovato dove l'uomo dice finito Dio dice rinnovato dove l'uomo dice morto Dio dice tornato in vita e non desiste da nessuno neanche dai lupi mi piace tanto San Francesco davanti al lupo che tutti a gubbio dicono che è cattivo violento e Francesco meraviglioso non sta ad ascoltare le parole lui vuole capire perché il lupo è cattivo così va nel bosco disarmato e si rende conto che il lupo non è violento non è cattivo il lupo ha paura il lupo ha fame e così Maddalena Zaccheo la Samaritana io questi capovolgimenti meravigliosi della Bibbia come dice Giovan Battista Vico sembravano traversie ed erano opportunità è un precedente clamoroso vale la pena ricordarlo è il re Davide assassino adultero bugiardo ma sincero di cuore unica condizione per rinnovare la vita è la sincerità del cuore non solo è perdonato ma è il finale straordinario di quel salmo potente che è il salmo 51 dice insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno un peccatore che fa ritornare i peccatori a Dio il peccatore che diventa missionario l'assassino diventa guida degli erranti l'adultero maestro di vita gli ha affidato il ministero sacerdotale di insegnare e guidare attraverso il suo peccato Felix colpa ha capito chi ha sbagliato via ma l'ha sbagliato di brutto si trova ad insegnare la via diritta può succedere anche a noi è successo chi ha fatto un naufragio trova un rottame di nave e diventa navigatore per colui che ha perso la rotta come Maddalena con Pietro allora di Maria di Maddalena non si racconta nessuna grande opera cosa ha realizzato nulla se non una corsa per di fiato al mattino e tante lacrime sono le istituzioni la politica le chiese che fanno opere i poveri e le donne fanno gesti meno opere più gesti è la soluzione anche per noi per chi crede e infatti non vediamo mai Gesù compiere grandi opere ma guardare fermarsi toccare accarezzare riorientare rialzare e anche lasciarsi accarezzare di Maria di Magdala non si ricordano opere ma solo qualche gesto stare presso la croce vedere fermarsi correre chiamare piangere ascoltare abbracciare ripartire e questo è un Vangelo a dimensione umana domestica accessibile non per eroi non cercherò il Signore ma uomini e donne autentici è la maestra che indica il fondamento di tutto il Vangelo di tutta la legge il fondamento di tutto è questo tu sei amato e sento Paolo che lo ripete tante volte è la cosa il chiodo da ribattere e da ribadire tu sei amato è il fondamento il compimento della legge è tu amerai chi astrae la legge e la sua esistenza da questo fondamento e da questo compimento amerà il contrario della vita amerà la morte allora il cuore della fede Maria di Magdra cosa ha fatto ha voluto bene e vi sembra poco noi non siamo chiamati a salvare il mondo ma ad amarlo non siamo chiamati neanche posso dire con sorella Maria di Campello sul cliturno non siamo neanche chiamati a fare del bene ma a voler bene questo ci insegna la donna dai sette demoni e dal grande cuore il cuore della fede non è ciò che io faccio per Dio ma ciò che Dio fa per me il Vangelo non è una morale che mi chiede di fare cose il Vangelo è una sconvolgente liberazione e al centro non sta il mio agire ma l'agire di Dio e la fede ci dicono ripetono è un dono no non è vero la fede non è un dono la fede è la mia libera risposta al corteggiamento di Dio vorrei poter sentire come Maria di Magdala il corteggiamento di Gesù e che Gesù sentisse qualche volta il mio corteggiamento grazie io proporrei un quarto d'ora di silenzio una cosa che mi veniva in mente adesso Hermes che non avevo mai notato nel Vangelo di Giovanni sto facendo una lezione cursiva del Vangelo di Giovanni da quattro anni nell'episodio di Lazzaro avete presente quando le due sorelle vanno incontro ed è interessante perché c'è stata poi questa sovrapposizione con Maria per cui Maria di Magdala è diventata una specie di figura collettiva ma una delle due sorelle a un certo punto dice se tu fossi stato qui Lazzaro non sarebbe morto e Gesù le chiede credi tu che io sia il Cristo e lei dice io credo che tu sei il Cristo usa le stesse parole di Simone a Banias a Cesera di Filippo che abbiamo celebrato liturgicamente qualche domenica fa come se la primitiva comunità cristiana avesse lì a Banias a Cesera di Filippi ascoltato la voce maschile della comunità e lì a Betania avesse ascoltato la professione di fede femminile della comunità mi piace vi dicevo all'inizio che sono piuttosto stupito del fatto che molti fra i festival io arrivo dal festival francescano questa mattina hanno proprio come tema la fragilità forse per il tempo che stiamo vivendo forse per quello che in qualche modo fratello Covid ci ha insegnato e non abbiamo molto imparato ed è bello leggere il Vangelo in questo modo io sento forte una missione nella mia vita Ermes che è quella di tirare giù dalle nicchie i santi perché augurare di essere santi è una iattura pazzesca alla fine ti accendono le candele sotto i piedi e ti chiedono chissà che in realtà sono uomini e donne che come noi hanno faticato tribolato e dove il ricalcolo del percorso e la fragilità non è uno sbaglio perché noi abbiamo poi maturato non so da dove venga questa cosa quest'idea che la fragilità sia uno sbaglio che il peccato sia uno sbaglio che ci allontani da Dio laddove tutte le esperienze che leggiamo degli uomini e delle donne che hanno conosciuto il Cristo di Dio hanno sbagliato e fra questi il principe degli apostoli Simone se di Maria di Magdala la Maddalena si dice poco di Pietro si parla in abbondanza in sovrabbondanza sin dall'inizio sin da quella chiamata raccontata in maniera diversa ma quella che mette i brividi secondo me è quella di Giovanni andatevela a leggere Giovanni è quasi gelido l'incontro fra Gesù e Simone e Andrea il fratello di Simone che porta Gesù a Simone Gesù appena lo vede dice tu sei Pietro ma non nel senso bello che poi abbiamo un po' come dire arricchito ma proprio sei decoccio sei uno duro tu si vede ed è interessante perché Simone compare nei quattro Vangeli e una cosa che mi ha sempre stupito chiedevo agli amici biblisti neanche io sono un biblista come sai Hermes perché nel Vangelo di Marco Marco certamente era discepolo di Pietro il meno di cui si parla è Pietro il meno perché nel Vangelo di Marco la famosa professione di fede tu sei Pietro su questa pietra non c'è la dice Matteo poi ognuno si fa le sue idee basta aspettare qualche decennio e glielo chiederemo di persona ma è bellissimo perché Simone mi ha sempre dato l'impressione di essere avete presente quell'amico di cui ci si vergogna un po' che quando siete in giro è un gran gaffer fa delle gaff pazzesche dice sempre la cosa sbagliata al momento sbagliato io me lo vedo Gesù dice a Pietro ma per carità perché Simone è così è un irruento Simone è qualcuno di sanguigno di concreto lui che ne sa di riflessioni teologiche che ne sa di Messia e di Cristi che devono venire la sua è una vita fatta di reti di mare di pesca di arrivare alla fine del mese eppure lì viene intercettato ricordate la chiamata che ci racconta Luca ad esempio questo Gesù che sta predicando e questi che riassettano le reti io mi immagino cosa pensano questi che riassettano le reti mentre c'è questo perditempo che è lì a radunare una folla immensa e a un certo punto Gesù si gira e dice mi prestate la barca un attimo Gesù mi diceva vabbè dai qualche metodo a terra per evangelizzare e poi Gesù per ringraziare diceva prendete il largo e io so che gli evangelisti con grande pudore non dicono le battute e i pensieri ma io sono assolutamente certo che in quell'occasione Simone abbia detto senti tu fai il faregname che io faccio il pescatore ma ha preso il largo e Simone è questo impasto di entusiasmo e di grattezza come siamo noi e a un certo punto probabilmente si era reso conto che Gesù vedeva in lui ciò che lui non vedeva una riflessione bellissima che mi deriva proprio dal Vangelo che abbiamo celebrato qualche domenica fa però nella versione di Matteo noi abbiamo letto Marco appunto quelle in cui tu sei pietra su questa pietra e c'è questo gioco di sguardi bellissimo Gesù il Nazareno chiede ai suoi chi sono io per te Simone il pescatore risponde a Gesù tu sei il Cristo e Gesù riconosciuto Cristo restituisce il favore e spiega a Simone che lui è Pietro anche a me è successo più ci avviciniamo a Gesù e lo riconosciamo come Cristo e più scopriamo chi siamo noi dentro Simone sapeva di essere cocciuto ma non sapeva che questo limite poteva diventare un punto di forza che Gesù vede non siamo qui a togliere i difetti dai santi ci dà fastidio che i santi abbiano difetti a volte grossolani ma è interessante perché il Signore lavora come fa lo scultore con la pietra e così Simone che ribadisco fa delle gaff continue pensate per esempio quella magnifica quando Gesù li raggiunge durante la notte sul lago in tempesta e Simone che dice aspetta che ci voglio provare anch'io se sei tu se sei tu aiutami che io venga da te e comincia a camminare e poi affonda Signore salvami c'è così simile Simone c'è simile anche nel suo momento un po' di esaltazione in cui pensa di aver capito tutto ho messo per scritto ma non mi sto leggendo tutto perché è veramente tanto pensate durante l'ultima cena che forse è il momento più drammatico in cui uno spera che almeno lì si Simone stia buono almeno lì ma non è così e mi emozionano mi commuovano questi evangelisti che scrivono un libro in cui loro fanno brutta figura io non scriverei mai un libro in cui parlo male di me per pudore almeno loro non hanno paura di dire non aveva mai capito nulla Luca giunge a mettere il litigio fra chi è il più grande durante l'ultima cena una roba che mette i brividi alti due dita oppure l'abbiamo appena celebrato chi va che celebra l'eucaristia domenica scorsa Simone che appena è stato nominato Papa che prende da parte Gesù che appena ha detto in che modo lui vuole essere Messia che è disposto a morire pur di non cambiare idea sul padre e che chi lo vuole seguire deve fare come lui questo è il significato di prendere la croce non diciamo stupidaggi di Dio non manda nessuna croce ma ci chiede se lo seguiamo di essere coerenti fino in fondo di crederci e a questo punto quando Gesù parla di morte che lui è disposto che succederà Gesù non è un profeta non è stupido sa che gliel'hanno giurata Simone prende da parte Gesù Dio te ne scampi Dio non voglia perché nella nostra testa nella mia testa piccina una vita fortunata è una vita senza scossoni vero o no? e noi sappiamo tutti qui dentro duecento sappiamo tutti da prima all'ultimo che invece la nostra vita è inevitabilmente fatta di momenti up e di momenti down vite a zigzag come scriveva Grossman le nostre sono vite a zigzag anche quella del figlio di Dio è stata così tanto più quelle dei discepoli che erano lì fatte di alti e di bassi Dio te ne scampi Dio non voglia e Gesù che usa questa parola così dura perché non sempre chi ti dà una carezza ti vuole bene e chi ti dà uno schiaffo ti vuole male che gli dice torna dietro di me Satana torna a essere discepolo torna a essere discepolo questo Pietro che insegna a Dio come si fa a fare Dio ma gli ritornerà questa roba qua e questo ci interroga molto mi è piaciuto molto la bruciante conclusione di Hermes su questa sulle opere e i gesti e si vede e si vede che Simone si sente un po' investito caspita cui poi dovrà garantire non ha ancora capito bene però deve pur fare qualcosa e anche durante l'ultima cena nel Vangelo di Giovanni c'è questo momento terribile quando Gesù si rende conto durante quella che noi chiamiamo ultima cena ma in Giovanni non c'è l'ultima cena e Giuda esce è notte nel suo cuore Gesù dice adesso il figlio è stato glorificato ma che dici Gesù ti sta andando a tradire appunto potrà dimostrare quanto lo ama Giuda è perso sì ma Gesù è venuto proprio per chi è perduto potrà finalmente manifestare la gloria a lui a tutti a noi come scrive benissimo Silvano Fausti non so se hai letto la perdizione è il luogo teologico della salvezza come possiamo dirci salvi se non abbiamo sperimentato la perdizione e in quel preciso istante Simone straordinario che dice Signore dove vai? gli rispose Gesù dove io vado per ora tu non puoi seguirmi mi seguirai più tardi Pietro disse Signore perché non posso seguirti ora darò la mia vita per te rispose darai la mia vita per me? si sono ribaltati i ruoli non è più Gesù che sta per dare la vita per i suoi ma è Pietro che vuol dare la vita per Gesù c'è un po' di confusione di ruoli eppure è interessante andatevelo a riprendere perché è impressionante quel racconto quante quante volte l'abbiamo letto nelle tre versioni dei sinottici del rinnegamento di Pietro quello che ci ha tenuto a sgomitare no ma gli altri sì ma su di me Signore puoi fare affidamento voi non l'avete mai pensato? io sì di me sì sì non è mai venuto in mente di dire oh questa cosa non mi succederà mai a me sì spesso e il Signore dice ok vabbè vediamo dove arrivi e questo questo rinnegamento di Simone e di Pietro non entro nel dettaglio ma c'è da farci una lezione intera solo su quello Simone che per tre volte segue Gesù da lontano ormai non è più discepolo segue da lontano per tre volte viene riconosciuto più a tre volte nega nega è interessante perché tutti i sinottici usano il termine greco per indicare non delle donne presenti ma delle serve con tutto rispetto per le colf ma in senso dispregiativo è lui che si faceva gradasso e che ora deve arretrare davanti all'accusa e le accuse sono assurde si comincia col dire tu eri con loro ma no figurati ti sbagli per finire con si sente dal tuo accento che sei valdostano hai la o chiusa e Simone nega di essere se stesso non conosco l'uomo traduce Matteo non conosco non quell'uomo ma l'uomo ormai si è sbriciolato davanti al giudizio degli altri vi ricorda qualcosa? a me sì ed è in quel momento che Gesù lo salva quel famoso gallo che canta che è diventato così un po' un icono ma in realtà è è un messaggio fortissimo quando Simone tocca il fondo ha bisogno di qualcosa che lo richiami di un gallo io ogni tanto nella mia preghiera piccola e scassata come sono io chiedo al Signore ogni tanto di darmi un gallo e il Signore me lo dà quando pensiamo di essere a posto sistemati va tutto bene madama la Marchesa un bel gallo che ci scuota Luca addirittura come sapete fa questa cosa che non è tecnicamente successa ma è bellissima fa incontrare al canto del gallo lo sguardo di Pietro con Gesù che esce dal Sinedrio usando questa forma verbale greca bellissima ci sono molti modi per indicare lo sguardo che è guardare dentro emblepseo lo guardò dentro e Simone scoppia a piangere e come scriveva un grandissimo autore italiano del secolo scorso per questo pianto noi ti amiamo Pietro perché il pianto di un cane bastonato ma da lì Pietro dovrà fare ancora un lungo percorso e Dio ricalcola il percorso lo aspetta Gesù risorto ma leggetevi i Vangeli della Resurrezione vi prego lui che è corso al mattino secondo Giovanni Giovanni tenero chi lo lascia passare prima è il Papa però è Giovanni che vide credette non Simone è come se non forzo la parola basta leggere fra le righe quella Resurrezione non lo riguardasse è troppo forte il suo senso di colpa il suo peccato è un po' come se tutto confluisse verso di lui fino al capitolo 21 di Giovanni quella famosa io vado a pescare l'ultima volta che aveva pescato erano stati tre anni prima e torna lì e di nuovo notte senza un pesce e sul fare del mattino Gesù lo aspetta gli studiosi ci dicono che probabilmente la comunità di Giovanni ha aggiunto quel capitolo per indicare l'importanza di Simone e quel dialogo bellissimo mi ami ti voglio bene mi ami ti voglio bene mi vuoi bene e Pietro si era trista ma è sempre Dio che abbassa il tiro e gli dice ma cosa ho e che ti dica signore adesso Simone è pronto sono così felice che Gesù abbia scelto lui come custode della fede e segno di unità non Giovanni che un po' se la tirava ma Pietro perché ci assomiglia tanto e io voglio appartenere a questa chiesa di scassati che sanno però lasciarsi accompagnare perché è sempre Dio che tiene in mano la nostra vita e le nostre scelte se ci fidiamo di lui ci accompagna ed è lui che ricalcola il percorso allora certo il limite non è un limite non è un laccio che mi impedisce di spiccare il volo come una certa narrazione contemporanea dice ma è l'ambito sicuro in cui posso stare conosco dove sono e conosco ciò che sono e da questa esperienza Simone diventa da allora il punto di riferimento per tutti quelli che attraverso uno o più fallimenti alla fine ci lasciano plasmare grazie grazie ecco ho capito grazie Paolo ho capito una cosa che ricalcolare il percorso è quello che fa Gesù nel dialogo con Pietro prima gli chiede il massimo mi ami più di tutti poi gli chiede solo mi ami poi ricalcola ancora e gli domanda ma mi vuoi bene un po' d'affetto posso averlo da te è bellissimo questo ricalcolare le attese le pretese bene adesso però passiamo a questa fase in cui facciamo le tue la doppia intervista avete presente le iene ecco uguale allora comincio io tu vieni dal festival dove festival francescano titolo era attraverso ferite attraverso ferite bellissimo ecco c'è uno slogan che si sente spesso che le tue ferite possono diventare feritoie oppure anche un altro celebre titolo di un libro siamo tutti dei guaritori feriti allora sono parole belle ma passare da ferita a feritoia da ferito a guaritore non è così automatico non è così semplice anzi quali sono vorrei domandare a te proprio i passi da compiere per passare per questo percorso da ferita a feritoia non ne ho la più palida idea ma so una cosa no non scherzo non scherzo l'unica cosa che so è che bisogna starci lo dico con molto rispetto prendetemi per diritto è un tema tosto questo qui dentro tutti noi abbiamo delle ferite quelle che vedono gli altri quelle che portiamo nel cuore e a volte c'è un po' di retorica lo posso dire cattolica si offri al signore ma di che che se ne fa il signore della mia sofferenza io credo che non abbiamo grandi risposte però un modo lo abbiamo che è quello di dimorare di stare di starci un po' come Gesù dice io non ho voglia e se però passiamo di qua passiamo di qua lo dice Gesù non lo dico io poi ci sono delle volte e non sappiamo come non sappiamo quando e non sappiamo se altrimenti che fede sarebbe che ti rendi conto guardandoti indietro che sei passato attraverso qualcosa di strano provate adesso a pensare a uno dei momenti peggiori della vostra vita certo che vorreste non averlo vissuto però ci siete passati l'avete attraversato io credo che sulla sofferenza e sul fallimento dobbiamo avere l'onestà di dire che non ne sappiamo tanto più degli altri ma che seguiamo un Dio che ci è passato allora mi piace di tutto il libro di Giobbe ricordare sempre Dio non dà una risposta alla sofferenza di Giobbe ma la conclusione di Giobbe è al capitolo 42 prima ti conoscevo per sentito dire adesso i miei occhi ti vedono cioè la Bibbia dice questa cosa sconcertante poco devota se volete nonostante e attraverso la sofferenza possiamo anche fare esperienza di Dio quindi lo so credo che dobbiamo un po' recuperare questo senso della realtà questa crudezza dell'incarnazione per dire a me non verrebbe mai da dire signore grazie che sto male no col cavolo però dammi la forza visto che ci sto e se non ho più forza apprendi quello che sono come sapete ho attraversato momenti di fatica anche fisica allora dicevo signore tu tieni buono quando io ti dico che ti offro la mia vita perché se domani ti bestemmi tu pensa ieri perché la nostra vita è così ma il nostro è il Dio che sta dentro questa cosa qua il nostro è il Dio che nel libro di Giobbe ammette che Giobbe è l'idea del sadico ed è parola di Dio quella questo un po' ci destabilizza come le parole di Dio è il libro del Coelet che è un libro ateo e questa roba mi fa impazzire diventerò cristiano prima o poi tocca a te sei pronto Bonofre dice alle volte bisogna peccare per essere fedeli trasgredire per obbedire che cosa vuol dire fare come faceva Gesù impuro per amore trasgressore della lettera per amore dello spirito rompere le farsi paci anche qui fuori un po' se vuoi da una certa retorica spiritualista che viviamo a volte vorrei provare a entrare in questo in questo tema del che alle volte per essere fedeli bisogna peccare c'è un'agrafa di Gesù sono quei pezzi non scritti però riportati da vari manoscritti antichi che si riferiscono non la tradizione scritta ma la tradizione orale che è rimasta come massi erratici dentro la tradizione antica bene uno di questi dice così quando quel giorno un sabato il maestro vide un uomo che lavorava di sabato gli disse oh uomo se sai cosa stai facendo sei benedetto se non lo sai sei peccatore se sai perché cioè se hai consapevolezza se hai coscienza questa è la dimensione che vale più della legge di quella legge che noi diciamo essere legge di Dio ma Gesù nell'esempio della donna adulta trascinata là davanti a lui per essere lapidata dice che chiaramente alcune le orme non vengono da Dio noi diciamo da Dio ma vengono dalla durezza del cuore affermo una cosa enorme non tutta la legge ha origine divina talvolta è un riflesso del nostro cuore duro ma trasgredire come quell'uomo che lavorava di sabato perché lo faceva per la fame di qualcuno per la sua fame perché obbligato perché altrimenti non aveva alternative non lo so ma se sai perché lo fai sei benedetto qualcosa vale più dell'azione è il perché agire qui andiamo nella profondità delle motivazioni trasgredire ma per obbedire a che cosa certo che si può trasgredire per obbedire a una legge più profonda la legge più profonda qual è la prima legge di Dio che l'uomo viva che ogni suo figlio viva questa è la prima di tutte le leggi lo vediamo oggi con questo con il mondo che geme con le vene aperte con la terra che beve il sangue di tutti questi figli uccisi la prima legge di Dio che l'uomo viva tu puoi trasgredire per far vivere e riconosce anche il Signore riconosce anche il diritto alla fuga quando una situazione procura morte il diritto alla fuga che disobbedire a una situazione perché la Bibbia ricalcola il percorso anche attraverso la fuga da chi può essere da Erode allora ma oggi può essere il compagno addirittura il marito o la famiglia o Caino diritto alla fuga come un modo per ricalcolare il percorso verso la vita attraverso una via storta fuga come via fragile e storta ma comunque verso la vita ecco allora che è possibile anche trasgredire per obbedire alla vita e questo è davvero una possibilità per tutti noi non per essere obbedientissimi alla legge ma per essere obbedienti al cuore di Dio ecco questo era quello che mi viene da dire sulla domanda mi viene in mente adesso mentre tu parlavi uno dei più grandi trasgressori della legge che noi abbiamo che è San Giuseppe il quale a norma di legge avrebbe dovuto svegliarsi quel mattino andare dal rabbino dire quello non è figlio mio a norma di legge previsto dal Deuteronomio invece mentirà dirà ma mi sono stufato di quella ragazzina lì quindi per salvare la vita di Maria disobbedisce la Torah e così facendo adempia la salvezza bellissimo questa cosa allora facciamo un'altra domanda cioè siamo preparati si vede eh sì per forza perché se no non sembra mi abbia studiato allora io ho sempre sopportato male i limiti e chi cercava ad impormeli invece il limite amare il limite è possibile il limite prendiamo per esempio il limite del giorno che è il tramonto e che è l'alba sono forse i momenti più belli prendiamo le foglie d'autunno al limite della loro vita quando si riempiono di colori oppure all'inizio quando escono dalle gemme cioè la bellezza nel limite secondo me è il preludio dell'oltre dell'illimitato ecco è possibile in questo modo dentro il chiudersi della giornata dentro l'imbrunire intuire già l'alba del giorno che viene come dice Battiato in quella canzone che bella questa cosa sì penso di sì ma forse bisogna anche qui specificare meglio no? quello che forse noi non sopportiamo sono i limiti che altri impongono o che non hanno senso o che percepiamo come ingiusti e poi certo c'è una fase della vita in cui sentiamo anche che il limite il fatto di essere nato uomo e non donna in Valle d'Aosta e non a New York nel ventesimo secolo e non nel quindicesimo è un limite cioè noi siamo comunque esseri limitati è una cosa su cui rifletto molto quando mi confronto con il tema della sofferenza è proprio questo pensate per esempio la reazione che noi abbiamo rispetto alla morte che è il grande limite e che l'unica cosa certa è che abbiamo tutti qui dentro toccate pure legno ma è così moriremo tutti più tardi possibile io trovo questa ribellione dell'essere umano come segno della sua grandezza cioè l'uomo che non accetta il limite e quindi o diventa un ribelle arrabbiato e sterile è pieno il mondo è piena la nostra vita e un po' siamo così se una cosa brutta ci ha lasciato forse questo ultimo periodo è proprio una sorta di vittimismo generalizzato tutto è colpa di qualcuno e noi siamo delle povere vittime magari anche di Dio ma se superiamo questa fase cioè se per esempio io ho sempre trovato che tu ne hai anche scritto benissimo il dubbio le domande sono essenziali alla ricerca di fede il nostro è un Dio che non vede l'ora che lo contestiamo ma non nel senso un po' adolescenziale del termine fa sorridere vedere il buon vecchio Papa Francesco che dice ai giovani svegliatevi ribellatevi fa ridere se ci pensate ma proprio perché esiste una forma di affrontare il limite che è il trampolino per andare oltre e poi c'è questa seconda cosa di cui accennavo già prima e sono assolutamente convinto che dentro il limite accettato e accolto come promessa di un superamento o come fioritura di qualcosa che se vuoi contesta anche un po' la narrazione contemporanea oggi intendo dire avete sentito la polemica successa alle Olimpiadi che quelli che arrivavano quarti erano degli sfigati fammi capire sei la quarta persona al mondo nella tua disciplina per forza sei contento è drogata questa cosa è folle allora quando tu accogli il fatto di dire ok io sono uomo e non donna sono nato in Valle d'Aosta e non da un'altra parte eccetera eccetera da qui in avanti come io posso fiorire cosa è fondamentale cosa è importante e torniamo sempre al discorso di amare perché altrimenti in questa logica come dice benissimo Papa Francesco continuiamo a produrre marginalità perché oggi i limiti sono sempre più elevati gli standard sono sempre più più elevati pensate quanti marginalità che stiamo producendo io cosa posso dire una persona che è nata gravemente tetraplegica che è una vita inutile infatti togliamo il disturbo per pietà lo facciamo ovviamente a noi pietà oppure ci interroghiamo sul mistero della vita e quindi la grande notizia è che mi sembra anche se nasci in un buco di paese come Nazareth sotto l'impero domano in mezzo al nulla un posto che non è neanche mai citato nella Bibbia Dio viene ad abitare lì e questa è una roba secondo me che scardina questa cosa però è un equilibrio che richiede di nuovo un percorso che forse passa anche a traversare la ribellione in certi momenti per poi arrivare a un'accettazione feconda però mi sembra dimmi dimmi parla liberamente come se fossimo davanti a 200 persone comunque siamo è vero questo discorso di Nazareth il centro conserva i limiti innovano sono innovatori i confini innovano ecco questa è la mentre il centro è conservatore di sua natura perché non può fare altrimenti quindi Nazareth è innovatrice perché sta ai margini che poi è un posto con tutto rispetto ma è brutto Nazareth o no come scrive Alberto Maggio un posto di trogloditi perché vivevano dentro le grotte ma con tutto rispetto però obiettivamente un posto rispetto ad altri posti della terra santa non è bello allora quando fate il pellegrinaggio adesso purtroppo si è a pregare tanto per quella terra insanguinata però ci vai un giorno a Nazareth non ci sta in una settimana stateci un mese solo Charles de Foucault c'è rimasto gran parte della sua vita no e Dio ci abita Dio sceglie quel posto 30 anni 30 anni a far cosa? sgabelli sgabelli ma voi ci avete mai pensato quanta gente la sera andava pregando il proprio Dio di liberarlo e Dio che faceva? sgabelli ci fa andare di matto sta roba qua Paolo Hermes ho scritto qua guarda guardando i personaggi del Vangelo di Gesù stesso e le nostre esperienze il fallimento è una tappa comune un po' come ci siamo detti sia di Maria di Migdal che di Pietro e forse è fondamentale al percorso di un uomo eppure soprattutto oggi continua ad essere visto come una disgrazia il limite il fallimento e lo si fugge non se ne parla secondo te perché spaventa così tanto il fallire? prima i motivi penso siano parecchi io dico il primo è che sveglia le emozioni della morte il fallimento e ne usa il linguaggio e le metafore perché quello che appunto il bruco chiama fallimento cioè fine della sua vita in realtà tutti gli altri chiamano una farfalla ma è il linguaggio della morte che ci spaventa poi soprattutto il fallimento spaventa il narciso che c'è in me non so voi se avete un narciso io dentro ce l'ho ce l'ho che vorrebbe specchiarsi nella sua bellezza perfetta che non esiste se non nel fariseo che è salito al tempio a pregare e prega io sono io prego io digiuno io pago sempre io 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 questo pronome stregato il fariseo è rivolto a se stesso prega a se stesso è narciso innamorato della sua perfezione è narciso non riesce ad amare nessuno perché nessuno è come lui e muore negando mentre cerca di abbracciarsi abbracciare se stesso riflesso in una pozza d'acqua narciso è più lontano da dio di caino narciso è il vero inconvertibile caino no il fratricida di fatti è per la bibbia per la genesi l'inventore della città cioè il capovolgimento infinito da assassino a inventore della convivenza questi sono i ricalcoli misteriosi e potenti la paura del fallimento credo sia dovuta alla teoria della perfezione c'è una perfezione fisica una perfezione intellettuale una perfezione morale insegnata tanto a me nel noviziato la vita religiosa era la vita perfetta vita di perfezione sì e ha fatto tanti danni ha distrutto tanti raccolti noi non siamo al mondo per essere immacolati ma per essere incamminati non siamo al mondo per essere perfetti ma per la fioritura dell'essere e quando ricordate la bellissima parabola non strappate la zizzania dice il padrone il mito del campo perfetto non esiste è un altro il modo di Dio di procedere non per campi perfetti non per persone perfette la zizzania è il fallimento in un certo senso del padrone del campo ma i suoi occhi vedono il buon grano una spiga di buon grano vale di più lui ha fiducia che le male erbe non vinceranno non soffocheranno il buon seme e allora abbraccia l'imperfezione del campo come Dio abbraccia la nostra imperfezione perché il bene che c'è in te in me conta più del male perché la luce quel grammo di luce che c'è in me conta più del buio perché una spiga di grano conta più di tutta la zizzania del campo ecco allora un'altra ottica l'ottica positiva solare l'ottica lo sguardo del creatore noi non saremo giudicati se avremo raggiunto la perfezione nessuno la vetta della montagna attraverso il sesto grado dell'ascesi se avremo un cuore senza zizzania ma no ma se avremo camminato verso la meta cadendo sette volte ma rialzandoci otto volte la perfezione in fondo non sta nella meta raggiunta sta nel primo passo che compi nel primo passo buono venerando coltivando le forze positive seminate in noi contando su di esse facendo che rompono in tutta la loro potenza in tutta la loro bellezza in tutta la loro energia e le male erbe non troveranno terreno non vedranno più il sole ora c'è stato detto l'alternativa di fondo nella vita è fallire o riuscire non è vero l'alternativa di fondo è vincere o perdere non è vero non è neppure tra vivere o morire l'alternativa di fondo io la copio qui da Heidegger è tra l'accoglienza e la gettatezza da essere accolti e accuditi da qualcuno nella vita o essere gettati via noi tutti siamo qui perché un giorno qualcuno ci ha accolti e accuditi il capovolgimento della Bibbia è un po' questo Dio preferisce le storie rotte a quelle lineari le navigazioni burrascose a quelle placide di bonaccia il nuovo nella Bibbia sorge dalle paludi e spesso anche nella nostra vita il motore dell'evoluzione scrive Rita Levi Montalcini l'elogio dell'imperfezione è l'imperfezione che spinge ad andare oltre il limite l'inadeguatezza da superare dove c'è perfezione non c'è evoluzione allora il fallimento fa parte di questo motore della evoluzione biologica del cosmo della psiche della morale sapete qualcuno dice che la luce nasce dalla libertà non dalle leggi fisiche ma da un momento da una imperfezione del campo quantistico originario lì nasce la luce dalla libertà dentro lo schema delle leggi fisiche c'è un grammo di libertà e da lì nasce forse la cosa più bella che c'è tra noi allora io volevo dire una cosa attraverso un poeta un poeta Jan Tardoski un prete polacco che si chiama Giovanni della Coccinella tradotto in italiano ebbene dice così parlo di queste strade difficili per quale via si giunge a te soltanto attraverso il portone ufficiale dietro a schiere di santi con i colletti inamidati o di certificato d'obbligo timbrato in mano o forse per una strada diversa tagliando per la scorciatoia facendo il giro passando da dietro attraverso una disperazione curiosa di tutto con un biglietto per un'altra destinazione senza la fede con la sola bontà quasi a scrocco da passaggi d'emergenza per ogni evenienza con una chiave di riserva che è avuta forse dalla Madonna in persona da tutti i cancelletti col gancio staccato da una strada non scelta da poveri sentieri tutti storti da ogni luogo dal quale tu chiami tramite una coscienza sempre viva per quale via non lo sappiamo c'è un gomitolo di strade tutte buone per arrivare a Dio c'è un elenco sorridente leggero di molte libere vie non è l'uniformità a dar lode a Dio ma solo non è solo il portone ufficiale con due gendarmi svizzeri non c'è un solo modo di pregare la varietà è rivelazione della illimitata potente vita di Dio arriveremo sentite da ogni luogo dal quale tu chiami tramite una coscienza sempre viva da dovunque incamminati per qualsiasi via seguendo l'unica stella polare una coscienza sempre viva percorreremo ciascuno la sua strada può essere la piccola via di Santa Teresa la salita al monte Carmelo di Giovanni della Croce può essere il mantra del pellegrino russo mai imitatori di nessuno però altri seguiranno altre strade tracciate da grandi uomini dello spirito Buddha Confucio Mosè Maometto Lao Tse alcune di queste strade saranno anche la risposta al diritto di fuga da ambienti e atmosfere mortificanti arriveremo da vie da vie di fuga da passaggi d'emergenza là dove c'era un cancelletto aperto da sentieri tutti storti ma arriveremo alla meta comunque prima o poi perché Dio ricalcola il percorso attraverso tutte queste vie particolari ognuno con il suo passo i zoppicanti e i maratoneti in un equilibrio instabile tra contingenza e sogno tra condizionamenti e libertà senza una strada già decretata non c'è una strada decretata che io devo scoprire per dove devo andare signore mostramila non c'è la via la costruiamo io e Dio insieme non c'è una caccia al tesoro con alcuni indizi ben nascosti che io devo andare a scoprire per trovare qual è la mia strada nella vita no la costruiamo man mano con una coscienza viva ascoltando i richiami da dovunque vengano e la costruiamo insieme a quattro mani trovare la nostra vocazione non è scritta da qualche parte la stiamo scrivendo adesso insieme a quattro mani in sinergia noi e Dio bellissimo verbo sinergei lo spirito agiva in sinergia con loro agisce in sinergia con noi per trovare la strada la vocazione la fioritura dell'essere e io dico per questo magnifico verbo Dio in sinergia con noi dico davvero grazie mi va bene grazie mamma mia ragazzi stiamo per chiudere ma ok ancora una domanda c'è tempo scegli tu caro Ermes qui ne avevamo un 47 no scherzo però ne avevamo fatte tante allora c'è una delle frasi più difficili e più belle della liturgia cristiana cattolica che dice la notte di Pasqua la notte di Pasqua dice felice colpa benedetto peccato ma ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo quando la quando la cantiamo perché la vita è la trama anche dei suoi errori e delle sue nascite delle colpe felici e si può rinascere non già nonostante ma attraverso il peccato come dicevamo prima come può accadere questo che la colpa sia felice la cosa divertente è che è Sant'Agostino che dice questo quindi non è insomma l'ultimo arrivato ed è interessante perché credo riprenda un po' quello che dicevi tu prima cioè che Dio ricalcola il percorso comunque noi abbiamo elaborato mi sembra adesso la metto giù un po' un po' grossolana abbiamo un po' elaborato l'idea che a seconda del nostro narcisismo spirituale che io mi presento davanti a Dio degno che io dico sempre ma chi è degno rispetto a che cosa dico sempre un po' per ridere ripeto prendetemi per diritto il nostro obiettivo è andare davanti al confessore come il padre figlio spirito santo dimmi figliolo niente e per noi questo è il massimo che Dio dice ma chi te l'ha chiesto guardate se ve lo dice Paolino non importa ma San Paolo lo dice San Paolo a un certo punto si rende conto che lui è un po' esaltato come tutti noi quando ci convertiamo però poi si rende conto che l'uomo vecchio è rimasto cioè che non è andato in vacanza e allora ha un po' questa idea qui a un certo punto ricordi quando dice per tre volte ho pregato il Signore tre volte trecento e il Signore mi ha detto di togliermi questo peso non sappiamo di cosa parlasse un suo limite qualcosa che lui percepiva come non andava il Signore mi ha detto Paolo ti basta la mia grazia nella mia debolezza infatti si manifesta pienamente la mia grandezza e con questo un mistero una tensione la tensione interessante che Gesù è uno dei brani meno commentati che io trovo che è bellissimo per la vita spirituale quando dice quando un demone lascia la casa e poi torna la trova tutta spazzata che fa va a chiamarne altri e la situazione è peggio di prima cioè il Signore dice ascolta c'è questa roba qui che non riesci a superare ma va bene se questa cosa ti permette di rimanere e di divorare nell'umiltà che non è la depressione dei cattolici ma è la consapevolezza della terra feconda cioè scopri chi sei e cosa sei chiamato a fare allora va bene questa è una bella tensione perché ripeto corriamo il rischio mi sembra mi sembra che a volte anche lì non concepiamo mi piace molto quello che tu dici lo sottoscrivo che la nostra è una vita in divenire come cristiani siamo esseri in divenire quando tu vedi un cantiere con una casa dove ci sono solo i pilastri le solette il tetto mancano le mura manca tutto ma che schifo ma ciccio lasciami finire però un pochettino abbiamo fretta il Signore invece no allora come dire mi sembra che dobbiamo volgere più lo sguardo sul sogno di Dio su di noi che non sulle fragilità e questo credo per questa ragione poi non soltanto Agostino dice questo ma è entrato nell'Exultet che è il grande inno che cantiamo il giorno di Pasqua amici l'ora è giunta tutto è compiuto nel senso che abbiamo degli orari perché qui stasera c'è uno spettacolo Armando è a presentare un'altra cosa e quindi anche se non so voi ma io sarei ma infatti io adesso sto con Hermes ancora un po' però è molto bello per me veramente un'esperienza bellissima stare qui con voi stare con lui in questa gioiosa riflessione sul limite perché questo è quello che è successo e quindi davvero ringrazio tutti voi lascio anche la voce a Hermes e buona continuazione buona vita e curta si direbbe sappiatevi amati grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti